Ciao a tutti! Salve e buonasera! Questo è Vingdictus! Esatto, e siamo in due postazioni diverse. Sì, oggi sì. E siamo Anteal e Rushal. Esatto! Stiamo provando la nuova classe che hanno messo a disposizione oggi, che è quella del... Comunque è un mago, sostanzialmente. Sì, sostanzialmente è un mago. Adesso finalmente possiamo fare, credo, una battle quest insieme. Di conseguenza ci richiamo verso i docks per imbarcarci in questa avventura. Via! Io vi annuncio che qui dove c'è tanta gente è l'aggo da morire. Allora, faccio io tutto, parti. Nutro speranze. Battle. Ok. Buonanotte, tu già stai là. Io sto ancora qua. Ecco qua. Io aspetto te, eh? Sì, sì. Dovresti ricevere l'invito. Ehm... No? Ora sì. Perché ora ha caricato. Ok, quindi devo fare... Enter. Come si fa qua? Ah, c'è il famoso dado. Tiro il dado. Quindi devo andare verso Enter, giusto? Che figata! Non puoi immaginare che figata è gettare il dado con le forze psichiche. Aspettami. Eh... Va bene. Mi dispiace. Con me si valenti. Va bene. Comunque, eccoti. Ti vedo quasi che carichi. Arriva te. Esatto, eccoti qua. Guarda. Mi stai a vedere con il dado sulla testa? Sì. E adesso lo posso gettare in ogni dove. Che numero sia uscito. Uo, l'ho fatto tre, ma non ci schifo. Via sulla barchetta, hai che partiamo. Tantatatam. Così. Era per dire. Ah. Ok, adesso mi dovrei anche ricordare com'è che si fa a dire che siamo pronti. Eh, qua mi lampeggiaredi da una parte? Basta che ci clicco sopra o basta che ci clicchi su? Sì. Sì. Clicca. Ok. Infatti adesso posso far finalmente partire. Adesso ci saluteremo. Guarda, fa tutta la pantomimia della separazione. Allora, spieghiamo a chi ci vede. Questa è la fase di partenza. Oh, che carina idea. E Rushan. Ciao. Partiamo. Questo è un intro veramente carino. Molto, molto. Siamo carine. Eh, siamo carucce. Molto carine. Non guardiamo a Tupergu. Siamo proprio carine. Però. Non sentiamo a Tupergu. Ah. Non ha anche una webcam il mongoloide? Sì, vabbò. Ok. Inizia le Peril Rose Ruins. Le ruine pericolose. Comunque. Siamo queste due classi... Ranged. E magiche. Ci sei? Dai che quasi meno. Sì, ci sono. Yuhuu. Ovviamente hai visto cosa ci sono? Vedo che li abbiamo uccisi. I tuoi amici ragni. Che palle si ragno. Si può dire. Sono ovunque. Ah, ma le dice le ragni. Ah, un'altra cosa interessante. Io odio i ragni. Sono i piedi... Le tue impronte sulle... Sulla mappa. Una gemma. Che ti dicono dove sei stata. Così non ti sbagli e ti perdi. Una cosa molto interessante. Allora, spieghiamo anche come funziona. Guarda, guarda. Get qua dietro, qua dietro. Eh, get vai. Allora, quando aprivi la scritta get c'è un oggetto da prendere. L'header credo che tu abbia preso. Ah, posso farlo anch'io. Ok. Allora, spieghiamo come funziona questa classe. Allora, ci sono due comandi sui due tasti del mouse. Destro e sinistro. Quello destro è il comando... Guarda. Ok, se finisci di spaccare tutto quello che c'è. Vedi che ho trovato una gemmuccia? Oh, guarda. Su quello destro c'è il comando principale. Su quello sinistro c'è l'attacco secondario. In questo caso l'attacco secondario monta, cioè a due livelli. La prima fase dell'attacco secondario è una specie di bomba di mana. Questi attacco secondario in questa classe si attivano premendo S. Il secondo livello è una Firebolt. Il primo livello praticamente lo potete usare di continuo, non ha cooldown. Il secondo ha un minuto di cooldown, cioè non lo potete usare due volte di fila. Adesso andiamo dai verboni in stile Dune. Che io e che... Non è che mi piacciono proprio tantissimo. Devo ancora in parte impattire. Ho spaccato qualche cosa. Io direi che ogni tanto lasciamo... Terminiamo distruzione e morte. Anche col mazzetto. Ah, ricordati che il colante... Puoi premere e dare i calci con la R. Sì. I ragnacci brutti che ho. Ecco che mi imbroglio. Chi è? Brutto. Brutto. Io direi di far montare... La Firebolt. Beh, adesso forse no. Conto a quello? Io... Adesso. No, niente. No. Aspetta, eh. Sono troppo lontano. Ha un Fringe. Eccomi. Ma non mi hai visto. Sì. Vabbè, l'ho overkill nostro. Quello, bruciata. Ok. Credo che sia morto sto cosino. Ok, aspetta. Ah, la mossa finale. Vai, finisci. No, ma il top tanto arriverà alla fine. In realtà... La posso prendere pure io, vero? Penso proprio sì. Sì. Iron ore. Proseguiamo. Io ho un cristallo. Chi c'è rimasto qua? Uhuhu. Faccio una bella... Hai fatto un macello. È bella, fare il bull. Come direbbe la nostra amica vanilla. A cui abbiamo liberatamente ispirato i nostri personaggi, ricordiamolo. Ah, qui ci sono... Allora, un'altra cosa molto particolare di questo gioco è che ci sono... C'è la possibilità di distruggere il... Quello che c'è intorno. L'environment, avrei detto, per far vedere che... Aspetta che per passare al prossimo step mi chiede... Vuoi passare al prossimo step col tuo party? Sì, signore. Infatti ti stavo aspettando. Eh, con calma. Questo c'ha il tempo tuo. Adesso vi faccio vedere. Per esempio, è possibile distruggere... Questa colonna. Sì, sì, gli oggetti si possono distruggere tutti. Anzi, se troviamo qualcosa che può contenere qualcos'altro... Tipo questo, un calcio. Tipo sì, tipo questo. Oppure una cassa o... Che... È possibile, tipo queste due robe qui davanti... È possibile che ci esca qua anche qualcosina. Ricordiamo che questi oggetti, quando cadono, provocano dei danni. Non solo ai mob, ma anche a voi. Se ci rimane sotto. Sì, sì, beh. Eh beh. Ok, guarda, i pignatti arrivano. Fammi una sorpresa. Fireball! Vai, monta la fireball. Vai. Eh no, hai montato l'attacco gay. Eccoci. Ma non c'è più bisogno, però va bene. A me lo hai fatto a parte. Ok, adesso il ponticello sotto di qua. Ah ok, questo me la ricordo più o meno. Ma guarda, fato. Morite tutti, brutti ragni. Eh, io cerco di saltare un po'. Eh, a me mi sono rispawnati davanti. Che dobbiamo fare? No, sono due gruppi. Non mi sono rispawnati. È proprio il primo spawn. E allora io ho ammazzato un gruppo. Ok, io ho il secondo. Perfetto. E' buono anche per sfogarsi, puoi ammettere. Oh beh, guarda. No, il gioco è veramente carino. A me mi è proprio piaciuto. Anche se mi devo un po' imparare come funziona. Vabbè, perché è un po' diverso per via del puntamento. Però diciamo che giro anche su macchine molto... Che hanno una loro età. Tipo la mia. Sì. Citavo appunto... Dai, com'è giocarci? E' così penoso, tipo come è stato per Rift? No. No, Rift è stato in assoluto... La cosa peggiore. Proprio la penosità maggiore. Wow. Questo è resistito. Cioè, questo qua che coraggio. Sto brutto. E questo sta ancora lì. Ah, ho notato che sta cacchio di Fireblood. Comunque la portata è microscopica. Certe volte. Boh, sta strano. Vabbè, comunque. Oh. Guarda, certe volte a me non mi riesce perché lascio il pulsante del mouse e non parte. Vieni. Questa si chiama Magic Arrow, l'attacco knob. Questo. Guarda. E forse... Che dici, in due gliela famo? Bastava avvicinarsi. Ah, ecco. Che attacco combinato. Hai visto che sono uscite delle cosine? Hai visto dove siamo? Sì. Ora, i gai sono tutti qua sotto pensando di quale giro vogliono fare. Non ci possono arrivare qua sopra. Si salta e si parte, ok? Ok. Pronta? Vai. Si scede. Oh. Via. Eole. Eccolo. Ah, eccolo. Boss finale. Quanto sei brutto. Allora, l'importante è che evitiamo che ci dà le mazzettate in testa. Vedi, quando esce scritto dangerous, sta per fare la sua abilità. Via. Si. Via, 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 via. Un attimo. Ok, io ho sistemato gli altri. Adesso mi metto da di lato io, ok? Sì, lo fermo lì. Aspetta che mi sono un attimo... Ah, prendo io, prendo io. Mi sono bloccata. Sì, ti ho visto. Con tutto il muro sei. Eh, sì. E non riesco ad uscire da qui. Ah, spostati, maledetto. Ok. Vai. Eccolo. Ah, fantastico. Vai con le foto, vai con le foto. Queste sono le foto che mi potete conservare. Perché adesso me le sta facendo gli spi. Se volete, a fine potete conservarli. Quando siamo forti, eh. Fantastico. Andiamo. Andiamo e raccogliamo di tutto. Io adoro questi momenti nei giochi. Il lutto. La vittoria. Ma sai, credo che sia una tendenza un po' comune. Sì, ma io adoro raccogliere le cosine. Eccolo. Tipo qui, per esempio. Fantastico. Ok. Wuhu. Anche livellato. Certo. Eh, mo' aspetta che fa tutta la pantomima bla bla bla. E dobbiamo finire di prendere tutte le cosine che stanno per terra. Allora, in realtà... Se tu premi next page, Ti prendi a scredire se vuoi salvare gli screen. Sì, ma io gli screen, sinceramente, pure questi non li vorrei salvare. Già, ho quelli di lotro su questa manca e abbastano e avanzano tutti. Ops. No, non ve lo prego. Ah, pensavo, guarda, mi dirmi... Rimango... Deluso. Pensavo avessi... Comunque io ho già avuto. E poi, scusami, questo mi fa le... Le robe come vuole lui. Io me le voglio, fa come voglio io. Comunque ti faccio notare che ho avuto il 150% di stile. Bravo. Grazie. Figurati. Se vuoi prendo a calci anche... Io avuto e torno in città. Ok, torniamo in città. Ah, ok. Se il party leader va in città, tutti vanno in città. Mi piace, lo sai? Eh, beh, oh. Se io non sei il party leader, fammi capire. Comunque, questo è grosso modo... Sì. ...come funziona. Ton, 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 ton. Allora, ancora riesco a capire come mai sono sempre circondato da monaci... Non, non l'ho capito. Perché sono tutti monaci. Non l'ho proprio capito. Però, me ne farò una ragione, come dire. Eh, probabilmente sì. Andiamo a riconsegnare questa quest. Sì, riconsegniamo questa quest e chiudiamo questa puntata. Tron, ton, 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 ton. Forza! Sto... Ah, la reattività di mio nonno quando c'è tutta questa gente. Sì. Vi assicuro che non è per nulla facile. Ecco, qui c'è la prima volta in cui devi mettere, scegliere la skill da uppare. Ok... Qua avete una... una skill da trainare. Questa nuova. Combat Master, sostanzialmente. Io però, che sono un animale, fa il bolt. Allora, io vi ho fatto vedere come è questo, quindi possiamo anche salutare. Perché qui si conclude. Allora, quanti punti posso spendere qui? 30? 30 max. Su quella che vuoi imparare. Fantasso. Perché devi imparare uno e implementare uno a livello E. Ok. Uno a livello E, ne ho imparata un'altra. Sì. Salutiamo? Perfetto, posso vedere. Ok. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Noi ci siamo divertiti, spero che vi siete divertiti anche voi. Sì, se no mi siete divertiti cazzi volte. Io sicuro. Ah, se no strafattati. Penso che le faremo altre queste puntate, tu che pensi? Sì, magari a un livello più alto, quando saremo un po' più Ubi. Perché, carino, da giocare. Ciao! Sì, sì. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti